Si apre il cantiere per la realizzazione dell'allaccio in pubblica fognatura delle terme di Sciacca. Oggi la ditta che ha avuto affidati i lavori da parte del Genio Civile di Egrigento ha delimitato l'area e portato i mezzi. Domani mattina inizieranno gli scavi. Finalmente vediamo concretizzarsi i frutti di un incessante lavoro portato avanti in tanti mesi e con diversi interlocutori, ha commentato il Sindaco Fabrizio Di Paola, che ricorda le audizioni in Commissione Bilancio dell'Ars, i sopralluoghi, la redazione del progetto da parte del Genio Civile, le conferenze di servizio e il decreto di finanziamento dell'opera di 125 mila euro dello scorso mese di maggio. Tanti passaggi per arrivare all'apertura del cantiere alla realizzazione dell'allaccio fognario per stabilimento e grandotella. E se un passo in avanti in tal senso finalmente si sta facendo, non altrettanto si può dire per l'obiettivo principale, ossia la riapertura delle strutture termali. In questa direzione giusto la scorsa settimana si è fatto un ulteriore passo indietro. Il governo Crocetta infatti ha deciso di ritirare l'emendamento alle variazioni di bilancio presentato dall'assessore Baccei, quello che prevedeva la destinazione di 3 milioni di euro utili alla fuoriuscita della SPA dello stato di liquidazione nel quale si trova da anni, con la conseguente possibilità per la stessa regione di riacquisire e tornare in possesso dei beni tuttora in vendita, a partire dall'ex Motelagip. Pare che adesso ci sia un piano B che prevederebbe, secondo indiscrezioni, la contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Solo indiscrezioni però, nessuna certezza sul percorso che il governo regionale intende portare avanti per arrivare a centrare l'obiettivo della riapertura delle terme di Sciacca. E il sindaco di Paola, in occasione dell'avvio dei lavori di Allaccio Fognario, torna ad auspicare che il governo della regione decida il da farsi e imbocchi la strada giusta dopo un anno e mezzo in cui si è ipotizzato di tutto, dai mini bandi per affidare temporaneamente le strutture privati, al bando internazionale, alla riacquisizione del patrimonio termale. Un susseguirsi di progetti, ma il risultato è che le terme sono ancora chuse.